Ciao, scusami, sei molto carina. Senti, ma già che ci siamo, ci scambiamo i cellulari? Scambiamoci i cellulari. Dai, va bene. Ok, grazie. Così, questo è anche un icon, meglio. Ciao, ascolta, c'è un guasto nel mio telefono, manca il tuo numero. Me lo metti? Perché penso, come no? Non sei Beyoncé, ricordatelo. Adesso lo segnano, adesso lo segnano, guarda. Spero non stiano chiamando i carabinieri, ecco, però... 118! Ciao, scusa, posso darti il mio numero? Sì. 43, così mi compri le scarpe. Grazie. Ciao. Sei molto carina. Posso lasciarti il mio numero? Va bene. Grazie. Ok, grazie, così poi mi fai la ricarica.